Questa è mia nonna. Quando arrivava l'estate la trovavi subito sotto il sole. E come dopo sole usava Johnson's Baby Olio. Mia madre invece ama avere la pelle morbida e idratata. Per questo ha sempre usato Johnson's Baby Olio per lei e per me. E anch'io, che vado ai parti con le amiche, guardo le mie serie preferite su Fox Life e passo ore a nuotare in piscina. Quando devo idratare la pelle, uso Johnson's Baby Olio. Johnson's Baby Olio e Fox Life. E tu come ti senti? E tu come ti senti?